La Schecter PT-MM è una chitarra elettrica 6 corde con struttura bolt-on, il corpo in alder, il manico in acero, la tastiera in acero con una scala di 25,5 pollici, 22 tasti x-jumbo e in tarsi dots. Monta due pick-up unbucker Schecter Super Rock 2, ha un controllo per il tono, uno per il volume, il potenziometro bushpool e un selettore a tre posizioni, il ponte e PTH, le meccaniche sono Groover. La Schecter PT-MM 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 La Schecter PT-MM